ciao a tutti oggi vi mostrerò degli esercizi a corpo libero per i ragazzi le ragazze più grandi dall'under 14 under 15 in su fino alle prime squadre in modo tale che continuiamo comunque a sviluppare e allenare la forza soprattutto quella esplosiva allora dopo aver fatto il classico plank quindi plank frontale plank laterale lo ripetiamo quattro volte in questa posizione quattro volte per 30 secondi 30 secondi 30 secondi per ogni lato andiamo a sviluppare piegamenti sulle braccia tre serie da 10 ripetizioni l'uno e ne facciamo due serie da cinque ripetizioni l'uno con le mani più strette poi andiamo a sviluppare la forza per gli arti inferiori posizione braccia tese scendo squat e risalgo guardate bene scendo sui talloni perpendicola al terreno la punta del ginocchio non supera mai la punta del piede scendo e spicco questo lo posso anche abbinare con uno e stacco verso l'alto quindi ne ripetiamo 3 serie da 10 squat normale 3 serie da 10 con lo stacco verso l'alto recupero tra un l'altra un minuto dopo aver sviluppato lo squat andiamo a fare affondi braccio e braccio e gambo opposta 20 affondi colpo libero 3 serie da 20 recupero un minuto e mezzo tra uno e l'altro poi andiamo a sviluppare forza esplosiva squat con contro movimento attenzione prendere una sedia o comunque un cubo o se avete dei gradini stabili sennò rischiate insomma di farvi male quindi massima attenzione uno e quando atterro addome contratto sempre il peso sui talloni devo assorbire devo assorbire il colpo per oggi è tutto forza funzionale poi vi manderemo a breve anche esercizi con la palla ciao a tutti grazie 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 grazie